un saluto a tutti gli amici di gamescore.it qui è nico e oggi vi porto l'unboxing di un prodotto avm andiamo a cercare il logo del produttore sulla confezione eccolo qui loro sono come visibile dal sito un'azienda tedesca ed è un'azienda leader nella produzione di componenti per realizzare delle reti domestiche ma anche per piccoli medi uffici sono veramente molto indicati loro nello specifico loro producono modem router wifi accessori tipo repeater powerline anche telefonia sempre a livello domestico e ufficio quindi non smartphone in sostanza loro producono questo tipo di accessori qua noi oggi abbiamo tra le mani un fritzbox 7530 che tra i modem router wifi prodotti dall'azienda quelli per collegamento via cavo quindi adsl e fibra ottica questo è il modello più piccolo questo non vuol dire che sia scarso non lo è per niente scarso ragazzi anzi è un ottimo prodotto che vi consiglio caldamente io personalmente ho sempre desiderato possedere un fritzbox solo che sono sempre stato un po restio da acquistarne uno primo perché costavano veramente troppo e poi perché avevano un'estetica che lasciava abbastanza desiderare sembravano delle navicelle spaziali della del periodo anni 80 quelli che si vedono nei film veramente un'estetica bruttissima con una plastica molto cheap con questi nuovi modelli che sono disponibili in commercio da un paio d'anni circa hanno migliorato l'estetica tantissimo hanno eliminato le antennine e con questo prodotto qui in particolare al momento c'è un prezzo molto interessante parliamo di circa 120 euro su amazon vi lascio il link qui in descrizione per acquistarlo ed è un prodotto che rispetto al modello top di gamma e 7590 differisce solo per una potenza del wifi che poi non è una potenza in diffusione è più una potenza come banda passante del wifi e per qualche porta in più a livello di porta ethernet e usb non è nulla di eccessivamente superiore tranne per il prezzo che costa esattamente il doppio di questo quindi questo è il prodotto che io vi consiglio e che andremo ad unboxare oggi direi quindi di tagliare con le chiacchiere e partire subito con lo spacchettamento guardate qui ci sono delle linguette trasparenti facili da rimuovere quindi non i soliti sigili da tagliare con cortelli cortellacci che a me non piace mai farlo allora all'interno troviamo dei manualetti questi sono tutti gli accessori che loro producono come dicevo cordless questo è un ripetitore wifi powerline quest'altra roba qui non ho idea di cosa possa essere e vabbè dai questa è pubblicità la possiamo togliere di mezzo poi abbiamo una guida rapida con anche l'italiano anche qui diamo una sfogliata molto veloce è illustrata tra l'altro anche a colori c'è l'italiano perfetto il modem router e qui troviamo altri accessori allora questo è molto curioso praticamente come vedete è un cavo abbastanza lungo devo dire anche dove abbiamo da un lato un connettore ethernet e dall'altro lato un connettore quello telefonico il plug telefonico però se vedete bene nei collegamenti cerco di mettere a fuoco vedete ci sono solo due poli per parte quindi questo qui non è nient'altro che il collegamento alla presa telefonica classica questa andrà alla parete e questo qui andrà invece al nostro modem router il modem è praticamente compatibile sia con la dsl che con la fibra quindi un unico un unica soluzione che potete acquistare ora e che vi potrà tornare utile nel momento in cui decidiate di passare la connessione internet a fibra ottica togliamo di mezzo anche questo cavetto un alimentatore da 12 volt 1,5 ampere metto a fuoco ecco qui quindi un consumo abbastanza erisorio è un cavetto ethernet carino e piatto questo qui è per il collegamento al vostro computer nel caso in cui decidiate di fare un collegamento diretto e non wifi quindi cablato nella confezione non c'è altro possiamo toglierlo e ritorniamo al nostro router che è imbustato qui c'è il codice wifi ma tanto lo cancellerò immediatamente lo modificherò direttamente dal software interno nonostante sia imbustato è presente anche una pellicolina che ora andremo ovviamente a rimuovere serie attaccata vieni via lucidissimo allora ragazzi devo dire che come materiale da ancora un po di quella sensazione di chip plastichina secondo me un po leggerina il sotto va meglio già cioè questa ampia griglia dove è possibile anche intravedere la circuiteria interna ci sono quattro piedini in gomma cosa molto utile sono presenti i fori per appenderlo alla parete sopra abbiamo anche qui una griglia e questa è una griglia molto intelligente ragazzi io vengo da un tp link quello un hacker di 5 ottimo modem router wifi anche lui non ho mai avuto un problema mai stato necessario riavviarlo altro solo che riscaldava veramente tanto in quanto aveva una parte superiore a cupola totalmente chiusa e la parte solo sotto era forellata ragazzi io vi dico se mi fai una cover a cupola il calore rimane tutto all'interno è questa cosa non penso che possa essere molto utile quindi magari nelle giornate più calde potrebbe andare in tilt la macchina in questo caso qui vedo che nella parte più alta appunto c'è una griglia che serve proprio a dissipare il calore vediamo che altro c'è ci sono questo è finto uno due tre tre tasti fisici uno dedicato a wlan penso che sia per spegnere e accendere wifi l'altro per collegare tramite tasto quindi al volo senza inserire password accessori esterni che possono essere anche i repeater questo modem router wifi è compatibile con la tecnologia mesh cos'è la tecnologia mesh la tecnologia mesh sono dei ripetitori da installare dentro casa sono delle scattorette quadrate che vanno inserite nella presa di corrente a parete che non fanno nient'altro che comunicare con il nostro modem router e diffondere ulteriormente la connessione wifi andiamo a verificare tutte le porte di connessione di questo modem router allora qui abbiamo una porta phone che dovrebbe essere una porta particolare per collegare determinati tipi di telefoni non ne ho idea perché poi troviamo poi la porta classica dedicata ai telefoni questo qui è per collegare il nostro telefono domestico che può essere un cordless o un telefono normale invece dsl è la porta dove andremo a collegare il cavo fornito in dotazione praticamente la connessione alla linea telefonica quella parete poi abbiamo quattro porte lan e qui cosa succede questo è un un piccolo consideriamo downgrade rispetto al modello principale una di queste porte qui e funziona da one se noi abbiamo per esempio ricevuto dal nostro operatore telefonico un modem router e vogliamo utilizzare lui come modem e questo qui come router dovremo collegare il modem router alla porta lan 1 di conseguenza ci rimarrebbero solo tre porte lan quindi tre porte ethernet per collegare nostri accessori che possono essere un computer può essere un nas può essere un media player può essere qualsiasi altra cosa in più abbiamo il connettore di alimentazione e anche qui c'è una piccola mancanza manca un interruttore on off per accendere e spegnere questo router di conseguenza cosa dobbiamo fare per spegnerlo non dobbiamo fare nient'altro che staccare il connettore d'alimentazione però anche in questo caso lo vedremo dopo in seguito che vi farò vedere il software interno di questo modem router è possibile spegnere e accendere il modem router direttamente da software preimpostando degli orari di lavoro ultima porta una porta usb questa porta usb è molto utile perché potremmo inserire chiavette o hard disk dove caricare dei file e rendere questi file disponibili su tutti i computer che andremo ad associare a questo modem router praticamente è una funzione nas invece di utilizzare un nas dedicato basterà collegare un economico hard disk con un'economica chiavetta inserire i file sopra e questi saranno disponibili per tutti i computer della nostra rete locale c'è anche il modo di avere la disponibilità all'esterno quindi magari avere questo modem router in ufficio e da casa poterci collegare comunque al modem router e avere accesso a quei file direi che come descrizione estetica e di porte è tutto non resta nient'altro che collegarlo ragazzi e andare a scoprire il software di gestione via eccoci su pc questo è il software di gestione del fritzbox 7530 o se preferite il firmware come vediamo questa è la prima sezione chiamata panoramica dove appunto abbiamo una panoramica di tutte quelle che sono le funzioni attualmente in esecuzione non ho nessun telefono collegato infatti telefonia è spento anche deck e non ho nessuna chiavetta usb collegata o nessun accessorio usb collegato al modem di conseguenza viene riportato qui andiamo subito sotto internet troviamo monitor online dove addirittura ci sono due grafici in tempo reale in download in upload ho appena collegato il tutto quindi è tutto a zero dati di accesso vabbè le solite impostazioni per la configurazione del nostro dei dati del nostro provider rete mobile questa è una cosa molto interessante praticamente è possibile sempre sulla porta usb presente sul modem router collegare quelle che vengono chiamate in gergo chiavette gsm dove inserire all'interno una sim mobile quindi possiamo utilizzare anche operatori tipo iliad o gli operatori virtuali più recenti e utilizzare questo sistema come backup inteso che nel momento in cui la nostra connessione di telefonia fissa è disattiva per motivi di manutenzione per motivi di guasto o quant'altro possiamo comunque utilizzare la nostra rete locale e collegarci a internet inserendo nella porta usb uno di quei modem usb dove si inserisce la sim poi ci sono tantissime altre opzioni ragazzi come questi filtri bisogna tutti studiare però come vedete il software tutto in italiano è veramente molto chiaro e anche molto guidato questo qua abilitazioni infatti è la sezione riguardante l'apertura delle porte lo chiamo abilitazioni ok account fritzbox qui sicuramente inserendo una mail riceveremo informazioni su quale che sono le novità del mondo avm quindi dovrebbe essere una sorta di newsletter informazione dsl bellissima questa praticamente fa un grafico dice quale che sono le velocità in upload e download mamma mia che schifo la mia connessione ok e dice anche che tipo di attrezzatura che tipo di apparecchiatura è presente nella centrale dove siamo collegati in questo caso qua specifica proprio che ci sono delle utenze prodotte da Broadcom ci sono tantissime altre opzioni ragazzi vedete veramente tanto addirittura grafici è bellissimo questo software veramente ci si perde dentro quante opzioni ce ne sono c'è anche poi tutto il comparto telefonia dove addirittura abbiamo un dettaglio delle chiamate in uscita in entrata chiamate perse segreteria telefonica rubrica possiamo impostare anche delle sveglie una sezione dedicata al fax una gestione delle chiavate dispositivi di telefonia per avere un elenco di tutti quelli che sono i telefoni collegati e anche una gestione dei propri numeri se vogliamo avere più numeri magari un numero per ogni telefono questa è una funzione molto utile per gli uffici praticamente è un centralino telefonico a tutti gli effetti poi abbiamo la rete domestica dove c'è qui addirittura una sezione dedicata al wifi mesh quindi praticamente qui si andrebbero ad aggiungere tutti i ripetitori che inseriamo nella nostra rete questo è un rossoconto generale della nostra rete locale dispositivi usb al momento non c'è nulla inserito memoria nas come vi dicevo prima è possibile veramente far diventare il nostro archivio esterno usb veramente un archivio di rete pari a un nas e accedervi anche da remoto quindi andare che ne so è un altro ufficio è un'altra abitazione avere comunque accesso ai nostri file media server e per la gestione dei nostri contenuti multimediali ma qui ci sono altre chicche ragazzi tipo radio web possiamo inserire le nostre radio e addirittura i podcast veramente incredibile nome fritzbox vabbè qui solo rinominare il nostro router smart home sono altre funzioni di gestite sicuramente da fritzbox bisognerebbe un po studiare questa cosa veramente ci si perde ragazzi poi c'è tutta la sezione relativa al wifi qui vabbè ci sono informazioni relativamente personali quanto è una configurazione al volo che ho fatto ragazzi non sarà la mia configurazione definitiva canale radio anche qui ho un diagramma grafico sicurezza la chiave che non vi avrei dovuto far vedere timer qui è impossibile fare quello che vi ho detto prima ovvero impostare un timer e quindi decidere a che ora si accende wifi e a che ora dobbiamo spegnere wifi questa è una funzione che io consiglio per la notte spegnere wifi secondo me dovrebbe migliorare il nostro sonno non posso dirlo con certezza ragazzi però secondo me dormire in modo naturale senza essere investiti da nessuna forma di 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 onda elettromagnetica o qualche sia è un guadagno non da poco sicuramente accesso a ospite qui possiamo gestire la connessione da poi destinare a nostri ospiti ripetitore mesh è quello che ho detto prima qui abbiamo sicuramente una gestione dettagliata ripetitore per ripetitore qui ci sono i deck per la telefonia voip servizi internet addirittura c'è una funzione di agnosi dove poter avviare un test e avere un risultato di tutte quelle che sono le funzionalità del nostro modem rupture e vedere se c'è qualcosa che non funziona una sezione dedicata alla sicurezza sistema eventi addirittura abbiamo un log tutto quello che noi andiamo a fare e modificare viene tutto registrato qui con tanto di data e ora di quando è stata fatta l'ultima modifica addirittura abbiamo un monitoraggio per il consumo qui possiamo veramente renderci conto cosa usiamo pesantemente e magari gestire un'ottimizzazione non solo di quelli che sono i consumi del modem router ma anche da qui possiamo avere un'idea di cosa noi sfruttiamo veramente tanto e potremmo andare a spegnere utenze che magari utilizziamo poco servizio push tasti e led anche qui abbiamo la possibilità di spegnere i led o ad addirittura diminuire l'intensità luminosa utenti fritzbox backup possiamo creare un backup di tutta quella che è la nostra configurazione e conservarlo su un nostro computer in modo tale che se si dovesse guastare il nostro fritzbox o se dovessimo passare un modello successivo non dovremmo fare nient'altro che ripristinare il nostro backup e ci ritroveremo con il nuovo modem router già tutto configurato aggiornamento abbiamo una sezione dedicata all'aggiornamento del nostro firmware poi ok regione lingua assistenti non dovrebbe essere nient'altro che una guida all'uso poche parole cliccando su queste assistenti ci dovrebbe guidare alla configurazione direi ragazzi che è tutto è stata una carrollata molto veloce come avete visto è un software bello perché c'è da dire è bello fatto bene tutto in italiano veramente molto completo e comprensibile devo dire anche abbastanza user friendly cioè la portata di tutti non bisogna essere necessariamente dei tecnici per comprendere quello che si sta andando a modificare ovviamente ci sono alcune funzioni dove un minimo di conoscenza bisogna averle per poterci mettere mano e niente ragazzi direi che questo video si conclude qui fatemi sapere cosa ne pensate di questo fritzbox 7530 se vi è piaciuto il video lasciate un like se vi piacciono i nostri contenuti iscrivetevi al canale per supportarci e alla prossima ciao a tutti